Ti amo, quanto sei bella. Sei mia. Scusa, non ero in me. Togliti quel rossetto. Copriti! È colpa tua! Sei solo mia! Ti ammazzo! Non rimanere in silenzio. Questa è la campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell'arma dei carabinieri in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Pronto carabinieri, come possiamo aiutarla? Video e foto, grazie alla collaborazione con le scuole, i carabinieri hanno deciso di puntare sulla creatività proprio dei giovani coinvolgendoli in un progetto nazionale. Anche il comando provinciale di Arezzo si è tinto poi di arancione, colore scelto per la campagna internazionale per il 25 novembre come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. Un fenomeno, quello della violenza contro le donne con dimensioni importanti anche nella provincia di Arezzo. Dall'inizio del 2023 i carabinieri hanno effettuato circa 287 interventi, raccolto 158 denunce per reati legati al Codice Rosso nei confronti di 178 vittime, con tre persone arrestate in flagranza e 152 segnalati alla Procura della Repubblica e Stato di Libertà. Non solo repressione, ma anche accoglienza, ascolto e rassicurazione delle vittime. Tre le cosiddette stanze tutte per sé dedicate alle donne vittime di violenza che si presentano per fare denuncia nell'Aretino. Dopo quella di Arezzo e Bibiena, la terza sarà disponibile nella caserma di Pieve Santo Stefano. Sul sito dell'Arma dei Carabinieri, infine, è stata dedicata un'intera area tematica sul Codice Rosso, dove è possibile trovare informazioni utili su atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, irreverence porno e violenza sessuale. Nell'area tematica è possibile trovare anche un test di autovalutazione per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia.